La vittoria del campionato è davvero un passo. Sì, oggi era una partita difficile da affrontare, fortunatamente abbiamo sbrigato subito la pratica a primo tempo e ormai mancano due partite, siamo a più cinque, diciamo che dipende da noi, ormai siamo consapevoli che manca poco. È stata una bella giornata di festa quest'oggi. Sì, oggi è stato bellissimo, una cornice di pubblico spettacolare che ci ha spinti al primo al novantesimo minuto, infatti è maggiormente dedicato a loro questa vittoria perché se lo meritano tantissimo. Il tuo rientro in campo, due gol a questo punto, Giuliano Alma rientrato con il resto della squadra alla grande. Sì, mi mancava il campo, due mesi fuori è stato veramente dura, perché non ho potuto dare il mio contributo. Ora che sono rientrato, anche se manca poco, cerco di dare quello che non ho dato in questi due mesi che sono stato fuori. Si festeggerà a Dattilo o si festeggerà in casa contro il Custo Palermo? Noi speriamo di chiudere la pratica il più presto possibile, quindi speriamo di festeggiare a Dattilo. È una partita difficilissima contro un avversario di tutto il rispetto, però noi non abbiamo paura di nessuno e speriamo di andare a festeggiare a Dattilo. Incontriamo una squadra di alta classifica, una squadra importante, però per noi oggi l'importante era vincere per regalare un'altra giornata di gioia a questi splendidi tifosi e penso che con questa vittoria siamo a un passo dal sogno. Quanto vi sentite adesso vicini a questo famoso salto importante, salto di categoria? Sicuramente manca un altro mezzo passo. Domenica andiamo a affrontare una partita difficilissima contro un Dattilo che è ancora in piena corsa per raggiungere la miglior posizione in classifica nella griglia playoff. Quindi noi sicuramente ci andiamo con più serenità, con più tranquillità, ma questo ci permette anche di affrontare la partita con la massima concentrazione e cercare di portare quei punti che bastano per cercare la matematica. Quindi si festeggerà a Dattilo o si festeggerà in casa contro il Cus Palermo? Noi speriamo di festeggiare a Dattilo perché vogliamo festeggiare il più presto possibile e poi magari organizziamo una bella festa l'ultima in casa con tutta la città che lo merita dopo tanti anni di purgatorio e una piazza che merita veramente paccoscenici importanti. Quindi magari un invito ai tifosi a seguirvi in trasferta lì in quel di Paceco? No, io credo che certe partite è meglio viverle che farse raccontare e mi auguro che domenica abbiamo bisogno anche di loro e credo che l'entusiasmo ci possa dare anche una mano a noi e la carica dei tifosi ci può servire per raggiungere questo obiettivo già da domenica. Un'ultima domanda sulla tua prestazione, hai provato più di una volta a tirare dalla lunga distanza, volevi il gol oggi? Sì, lo cercavo però siamo quasi alla fine della stagione, le batterie sono un po' scariche però l'importante oggi era vincere, al gol magari speriamo che arriva domenica quello decisivo.